si ho capito ragazzi ma finisce sono quattro mesi che è gennaio finisce questo mese o non passa mai la cosa incredibile mamma mia non finisce più gennaio quest'anno e figuriamoci febbraio oggi ancora il 29 se voi pensate che ci mancano ancora due giorni è una vita che è passata che c'è gennaio non lo so forse è una mia impressione una cosa che mi ha sempre due mesi gennaio febbraio un po' un po' così buongiorno buongiorno ragazzi buongiorno a tutti bentornati qua sul canale dal vostro amico eneci nella casa del pane balun buon sabato a tutti buon spesa buon olive buon cacciotte buon mortadella buon focaccia pugliese buon tutto quello che si fa il sabato almeno questo è quello che faccio io e bene dai bella giornata anche oggi infatti finito il video vado a correre perché ci vuole un po' di per tenersi in forma e ragazzi c'è da da parlare c'è da parlare di cosa di vlau c'è ancora basta una settimana ogni giorno sembra che l'hanno comprato oggi basta basta c'è altro di cui parlare facciamo insieme ragazzi allora innanzitutto c'è da dire che il mercato secondo me sostanzialmente è chiuso perché continuano a rimbalzare adesso marotta pensa scamacca poi c'è zaccaria della juve poi c'è i colpi che dovevano fare sono stati fatti secondo me magari adesso gli ultimi due giorni giusto se qualcuno è scontento ma non è roba di mercato di gennaio la scontentezza dei giocatori sostanzialmente il giocatore anche se è scontento sta nella squadra che è e aspetta giugno poi eventualmente perciò dubbi secondo me grossi colpi non ce ne saranno tutti quanti parlano del giorno del condor non credo non credo ragazzi però vediamo vediamo intanto ci sono novità per quanto riguarda i rinnovi in casa milan perché non è ufficiale ma è quasi ufficiale anche se ho dovuto sfogliare la gazza stamattina in maniera esagerata era la dodicesima pagina e contiamo molto devo dire ultimamente perciò detto questo va bene dai parliamo un po' di rinnovi vediamo eventualmente qualche interesse di qualche squadra facciamolo insieme ragazzi iscrivetevi al canale mi raccomando è importantissimo fatelo perché innanzitutto vi ringrazio perché ho avuto veramente tanti iscritti ultimamente e vi chiedo ancora di continuare a iscrivervi attivate la campanella che è molto importante così vi tiene aggiornati su tutti i miei nuovi video appena pubblico il video vi arriva la notifica perciò quello è importante così si rimane attivi e ragazzi mettete like il like è importantissimo perché quello aiuta il canale a farlo entrare nell'algoritmo di youtube insomma far sì che youtube lo metta un po' dappertutto e noi veniamo conosciuti ecco perciò ragazzi mi raccomando like 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 e condividete aiutate anche voi youtube a spargere il video tutto questo ragazzi è gratuito perciò fatelo e partiamo partiamo dai partiamo subito metto gli occhiali perché se no tac allora partiamo subito col rinnovo rinnovo del casa milan praticamente è tutto fatto con teo hernandez qua dice e la base è dagli uno e mezzo che prendeva 4 milioni di euro l'anno fino al 2026 perciò io devo essere sincero è vero si è un po' scontente adesso il fatto che gli altri abbiano acquistato i giocatori gosens insomma vlaovic è il giocatore che ha fatto un po' più clamore adesso gosens ce lo vogliono far passare come come il vlaovic di turno però va bene sì ho anch'io detto che in quel punto di campo l'inter aveva solo perisic che oltretutto in scadenza e ha fatto una buona mossa poi adesso da qui a dipingere gosens come il nuovo garrencia indibreme o serginio della situazione ci andrà un po' cauto un buon giocatore per l'amore di però diciamo l'acquisto che ha fatto più clamore è vlaovic è sostanzialmente perché vlaovic è un giocatore che effettivamente può spostare gli equilibri non so se può farlo già da gennaio perché è vero che alla Juve l'inavanti gli manca appunto il goleador però è anche vero che non arrivano grandi quantità di palle per poter poi trasformarle in gol col gioco di Allegri perciò io penso che la Juve ha fattosi un gran colpo ma molto in prospettiva e sì certo poi bisognerà riuscire ad arrivare al quarto posto però io non penso che il quarto posto della Juve possa dipendere da Vlaovic o meno o meglio certo Vlaovic può dare un contributo che gli altri ad oggi non avevano dato però ci vuole anche qualcosina in più da parte della squadra che comunque nel frattempo si è rimessa in carreggiata perché non è che hanno preso Vlaovic e sono a 15 punti dal quarto posto e poi arriveranno al quarto posto è stato bravo Vlaovic la Juve è lì adesso perciò comunque poteva lottare per il quarto posto anche senza Vlaovic perché fino adesso non l'ho avuto detto questo è un grande colpo ecco quello è stato veramente un gran colpo quello di Gosens un buon colpo per l'Inter in prospettiva con la problematica della scadenza di Piedici quant'altro non è un colpo ai livelli di Vlaovic i nostri colpi quest'anno invece sono a parte Lazetic che comunque è un giovane in cui la società crede e perciò comunque ci fa le sue scommesse abbiamo capito che questa società è così non pensa molto al presente e al futuro non si indebita e va bene ragazzi è una scelta noi siamo tifosi a noi sostanzialmente non ci interessa perciò vogliamo vedere anche noi il grande colpo va bene magari poi ce ne pentiremo e Lazetic ci sarà un grande colpo fatto adesso e sarà ancora più bello per il momento siamo un po' così e così però comunque stiamo andando avanti in altre cose perché si parla del rinnovo di Teo Hernandez che è già tutto quasi fatto ci manca solo l'ufficialità perciò quello è un grande colpo perché sappiamo negli ultimi anni abbiamo avuto problemi con Donnarumma c'è la Nogra adesso con Kessi perciò quello è un gran colpo nel senso che non lo perderai eventualmente a zero più avanti stanno lavorando su Leao stanno lavorando su Benasera insomma si lavora su altro poi ragazzi noi quelli che abbiamo ci piacciono perciò dobbiamo fare in modo di tenerceli quelli che abbiamo forti che in prospettiva veramente possono dar tanto e Teo Hernandez è veramente tanta roba Leao non ne parliamo Benasera fa il suo già devi iniziare a sistemare quello così eventualmente nell'estate se devi fare qualche colpo non hai il problema ma quello è andato all'ultimo anno in scadenza di qua di là sei a posto perciò è il lavoro che fa il Milan per portarsi avanti perciò bene bene vedremo adesso poi come andrà a finire con Kessi però sostanzialmente abbiamo capito un po' tutti quanti che Kessi non sarà più dei nostri l'anno prossimo la società non fa le barricate nel senso comunque il loro modo di agire è quello che hanno fatto anche l'anno scorso con Cella Nobile Donna Roma lì si sfrutta finché si può fino all'ultimo la loro scelta è quella loro non vanno il di là ragazzi bisogna accettarlo perciò va bene cioè io devo essere sincero può piacere o no la strategia di una società l'importante è che la società quando fa una strategia poi rimane coerente e in linea con quella strategia con quella strategia che dice di avere e il Milan lo sta facendo non come altre che fanno piangono non abbiamo soldi non sarà un mercato e poi all'ultimo fanno come i bambini vogliono cercare di fare strategie non lo prendiamo siamo in difficoltà e poi dopo tanto Vlauice che lo dice o non lo dice hai sempre dovuto tirare fuori il grano non è che è una grossa strategia cioè preferisco una squadra che comunque rimane in linea senza troppe smancerie quello che ti ride da una porta e le Marotta che ti ride da una porta no non facciamo acquisto poi spendono i soldi per Gose poi allo stesso tempo piange perché vuole gli aiuti dallo Stato ragazzi cerchiamo di rendere anche un pizzico serio questo sport non solo a coglionella perché sennò veramente possiamo capire i giocatori a volte escono fanno di quelle uscite un po' così e così ma sono giovani sbarbati e quant'altro quando c'è gente adulta magari cercare di prendere meno a coglionella le persone sarebbe giusto detto questo va bene allora noi stiamo lavorando sui rinnovi perciò di altro c'è poco da dire nel senso che si parla ancora adesso addirittura l'Inter sta cercando di lavorare sul futuro nel futuro per Scamacca insomma sono quelle Morata Morata adesso praticamente sembrava già quasi fatta per il Barcellona in realtà non è proprio così vedete ragazzi i giornali sono un po' eccetera già quasi fatta di Morata per il Barcellona mentre Vlaovic la Juve stava lavorando per Junior Vlaovic è arrivata adesso e Morata rimarrà la Juve perché così andrà a finire sostanzialmente vedremo vedremo dai ragazzi allora io oggi è una gran bella giornata vi auguro un buon sabato di tutto cuore ci vediamo più tardi se esce qualche news ragazzi se no vediamo di inventarci qualcosina perché è giusto vederci mi fa piacere chiacchierare ragazzi nei commenti fatemi sapere cosa pensate di quello che io dico e come e come vi trovate su questo canale perché perché no scrivetemi nei commenti come vi trovate su questo canale per chi è iscritto per chi non è iscritto ragazzi iscrivetevi e poi mi direte come vi trovate in questo canale dai ragazzi vi auguro una buona giornata mi raccomando mettete un bel like se non l'avete messo prima o lasciatelo se lo avete invece messo prima e come dico sempre io ragazzi ciao